Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a questa nuova puntata di Open, un passo del futuro, il nostro format originale dedicato all'innovazione, termine che ormai possiamo applicare a qualsiasi settore. Oggi in particolare ci concentreremo sull'API Ecosystem, che cos'è, che cosa significa farne parte ricordando che in un mondo sempre più espanso ed interconnesso le aziende anche a livello mondiale e globale hanno capito quali vantaggi derivano dalla collaborazione piuttosto che dalla competizione. Collaborazione è anche un modo per generare, creare nuovo valore e in questo senso l'API Ecosystem può essere definito ecco come il collante tra le varie industrie. Ne parleremo naturalmente con gli ospiti che mi hanno raggiunto qui in studio, ovvero Luca Colassanti, Director Presale Iberia Italy and East Europe di Axway, a cui do il benvenuto. Buongiorno Luca. Buongiorno. E poi ancora Alessandro Favole, Business Unit, Business and Wholesales Director di Eolo. Grazie, buongiorno a te l'invito. Bene, e poi abbiamo Marco Altamura Vice President at Payments Cash Management and Open Banking di Intesa San Paolo. Benvenuto anche al dottor Altamura. Grazie, grazie mille. Buongiorno a te e a tutti. Bene, avete messo un po' alla prova le mie abilità sull'inglese con i vostri job title. Spero di averla superata e una volta ecco che abbiamo iniziato questa tavola rotonda con l'introduzione possiamo poi entrare proprio nell'argomento. Io direi di partire proprio ecco da Luca Colassanti perché di API ecosystem ormai si parla sempre di più, è proprio un vocabolo che è entrato anche nella quotidianità del nostro sistema, del sistema industriale italiano. Però nonostante ecco il nostro pubblico abbia una certa familiarità con queste tematiche, non è detto che tutti sappiano esattamente che cos'è un API ecosystem e quindi io direi di partire proprio dalla definizione. Assolutamente, grazie mille. La definizione di API ecosystem ha come origine della definizione di ecosistema. Un ecosistema è qualcosa che assolutamente non è una novità nell'ambito industriale, nel mercato. Tutte le aziende da sempre interagiscono con altre aziende, sia dello stesso settore sia di altri settori. Basta immaginare nella vita quotidiana di tutti noi quando andiamo in banca e chiediamo un mutuo, la banca ci propone delle assicurazioni obbligatorie o facoltative. Questo è un esempio di interazione tra aziende e portato tra interazioni di più aziende diventa un ecosistema. La differenza nell'API ecosystem consiste nel fatto che si interpone uno strato di standardizzazione che è rappresentato tecnologicamente parlando dall'API. Avere l'API che espongono servizi all'ecosistema, quindi a quello che è il mercato, permette che cosa? Assolutamente un più semplice e veloce interazione, integrazione tra aziende che questo ne abbassa il costo e quindi ne aumenta il raggio d'azione. Quindi quando parliamo di API ecosystem parliamo di industrie, aziende che comuniano tra di loro, scambiandosi informazioni, usando servizi di l'uno o dell'altro attraverso tecnologicamente parlando l'API. Ecco, chiarissima la definizione e invece con gli altri due ospiti entriamo proprio nel merito, cioè che cosa significa entrare a far parte, essere parte di un ecosistema per una banca e per una società di telecomunicazioni. Iniziamo ecco dal dottor Altamura. Sì, allora diciamo che per quanto riguarda una banca l'apertura dei propri sistemi anche all'esterno, è venuta grazie alla PSL2 che ha sostanzialmente imposto alle banche di rendere disponibili delle API che consentissero di accedere ai conti per servizi informativi anche attraverso soggetti terzi, le cosiddette terze parti. Diciamo questo obbligo normativo è stato un po' il grimaldello che ha forzato le banche a realizzare delle infrastrutture tecnologiche che consentissero all'accesso ai sistemi banca anche a soggetti terzi. In prima battuta per adempiere questo obbligo regolamentare, ma poi col proseguo del tempo anche per utilizzare questa infrastruttura per esporre dei servizi a valore giunto che andassero oltre quello che era lo stretto obbligo della normativa. Nel mettere a terra questo strato tecnologico le banche hanno concretamente iniziato a collaborare tra di loro non soltanto per rispondere agli obblighi normativi, ma anche per cominciare a studiare nuove modalità insieme di proporre dei servizi a valore aggiunto che potessero portare ulteriore valore per le banche e per i propri clienti. Chiarissimo, poi naturalmente parleremo dei bisogni anche nuovi dei clienti che si sono materializzati soprattutto dopo la pandemia e chiedo ecco anche al dottor Favole il fatto di essere in un ecosistema è qualcosa che da un lato forse prima spaventava un po' adesso è un'apertura verso la quale ormai le industrie devono portarsi. Cosa significa per una società di telecomunicazione? Ma come un po' hanno già anticipato anche i miei colleghi diciamo nel mondo delle telecomunicazioni come in tutte le filiere noi siamo interconnessi con altri operatori sia per i servizi di capacità e quindi per i servizi di rivendita tra operatori e soprattutto per come diceva il dottor Colasanti per efficientare i processi quindi oggi la grande opportunità di far parte di un ecosistema in termini di API ci consente magari di non sviluppare applicazioni all'interno ma di prendere dai best in class del mercato e di metterle a reddito nel processo produttivo e nella filiera creando e rigenerando il valore dandolo sostanzialmente poi al cliente finale. E infatti ecco il cliente finale che naturalmente è al centro poi no è il soggetto protagonista e qui introduco ecco l'argomento di cui avevo accennato poc'anzi ovvero come sono cambiati i bisogni dei clienti naturalmente ciascuno rispetto al proprio settore esigenze che sono modificate proprio a partire dalla pandemia con una richiesta di digitale di digitalizzazione che è sicuramente aumentata e quindi ecco partiamo da qua insomma da una panoramica dei vostri mercati di riferimento a partire con ripartiamo in giro con il dottor Colasanti. Sì allora noi io rappresento un vendor quindi noi vediamo diversi mercati e lo vediamo come fornitore delle aziende che lavorano nei diversi mercati e ovviamente la pandemia è stato un pochino il catalizzatore di questa trasformazione dove prima aveva un certo passo a seguire dopo la pandemia il passo è aumentato di molto si è velocizzato questo perché perché giustamente come dicevamo le esigenze dell'utente finale del cliente sono cambiate prima si facevano cose più fisiche un'azione si tendeva a farla fisicamente adesso invece si fa in maniera digitale quindi attraverso le app attraverso i portali e chiaramente è cambiato quello che è la percezione dell'utente stesso. Un'azione comune che noi facciamo immaginate di prendere un taxi prendiamo un Uber nella nel prendere un Uber noi stiamo contattando servizi forniti da tantissime società quindi noi stiamo usando l'ecosistema a tutti gli effetti e lo facciamo non accorgendoci ed è questo il punto fondamentale le esigenze dell'utente finale sono cambiate a tal punto che l'utente non vuole il servizio dall'azienda A o dall'azienda B ma vuole il servizio che risolve la sua problematica o che soddisfa il suo bisogno fornito da n aziende in maniera trasparente. Ecco a proposito appunto di come sono cambiate le abitudini e le esigenze dei clienti ecco faceva riferimento appunto il dottor Altamura all'esempio ecco della viabilità però ecco invece è cambiato tantissimo anche il mondo bancario questo sì perché tanti servizi che prima eravamo abituati ad usufruire andando in presenza nella filiale adesso li possiamo gestire comodamente da casa proprio grazie alla tecnologia questo cambia tutto cambia completamente il vostro scenario dottor Altamura. Sì allora diciamo che come diceva il dottor Colasanti la pandemia ha accelerato una trasformazione che era già in atto e sostanzialmente quello che ha comportato è che i nostri clienti ma un po' tutti si siamo abituati a determinate user experience che sono poi magari quelle offerte dai principali player dalle big tech che sono assolutamente dei campioni in termini di user experience e questo ha creato sostanzialmente nella nostra clientela un'aspettativa molto importante di servizi che abbiano una customer experience che sia assolutamente a quel livello e laddove questo manca ovviamente viene immediatamente percepito come un difetto. L'API ecosystem in realtà su questo può dal nostro punto di vista essere davvero un modo per rispondere a questa esigenza non soltanto ai nostri clienti ma anche dei clienti dei nostri clienti no perché diciamo attraverso l'utilizzo di servizi API è possibile creare dei processi altamente efficienti andando a inserire diciamo per esempio le relazioni che un'azienda cliente della banca deve avere con la banca per determinati servizi non come un processo asincrono da attivare a parte le spesso dei propri processi aziendali ma come uno step inserito all'interno del processo aziendale esattamente nel punto giusto esattamente dove c'è bisogno per realizzare diciamo una user experience perfetta per i propri clienti. Faccio un esempio proprio per dare un po' di concretezza a questa teoria. Per esempio le banche in ambito diciamo CB si sono accordate per realizzare un servizio che si chiama Check IBAN che serve per verificare in tempo reale la corrispendenza tra un IBAN e un codice fiscale. Questo per esempio per un'azienda come una Telco può essere assolutamente utile in fase di sottoscrizione di un accordo con un nuovo cliente perché permette di verificare in tempo reale se l'IBAN fornito dal cliente per l'addebito delle bollette è effettivamente il suo. Quindi rispetto a una situazione precedente in cui magari ci volevano due o tre giorni dalla richiesta di domiciliazione dell'addebito sulla banca a quando la banca dava la conferma del corretto abbinamento dell'IBAN e in cui oltretutto la Telco doveva attendere l'attivare il servizio per prudenza, adesso la risposta arriva in tempo reale grazie a un servizio informatico molto semplice inserito nel punto giusto nel processo di vendita a lato Telco che dà un risultato in temporale e consente all'azienda di verificare, di avere conferma dell'abbinamento dell'IBAN e del codice fiscale e di poter dare immediatamente il servizio al cliente, quindi si passa dall'attivare il servizio a di più qualche giorno ad attivarlo real time e questo per i clienti è una user experience fantastica. Certo, ecco dottor Favole ci ha semplificato il lavoro, il dottor Altamura ci ha fornito sul piatto già un esempio concreto di che cosa significa appunto la collaborazione tra diverse società all'interno di un ecosistema, ma soprattutto ha parlato di creazione di servizi che siano all'altezza della customer experience, della user experience, ecco suo commento rispetto a questo. Torno anche alla sua domanda di prima su che cosa è cambiato in termini di utilizzo del servizio da parte dei clienti nel periodo pandemico e post pandemico, quello che noi abbiamo visto essendo una telco, noi forniamo servizi di connettività, siamo posizionati soprattutto nei piccoli comuni attraverso una tecnologia che è proprietaria su onde radio, quello che abbiamo vissuto diciamo da una sera con l'altra è stato l'incremento overnight del traffico di circa il 70%, noi come tutte le altre telco grazie a Dio abbiamo attraverso sistemi di resilienza diciamo retto a questa onda d'urto e siamo riusciti a garantire il servizio a tutti i nostri clienti, che cosa è cambiato nel loro comportamento? L'utilizzo, no? Perché tutti questi servizi digitali a cui i clienti si sono necessariamente abilitati e abituati ad utilizzare, penso al video on demand piuttosto che a tutte le applicazioni che ormai ognuno di noi usa per fare web call da remoto nel remote working, hanno inevitabilmente cambiato anche il profilo di traffico dei clienti. Ecco, per personalizzare e per riuscire a fornire, come diceva il dottor Altamura, un'esperienza dal cliente, end to end, intervengono sistemi di diversi player che noi abilitiamo grazie all'ecosistema API. Certo e quindi insomma tutto questo mostra in maniera chiara come la interazione tra le diverse aziende poi crei e generi valori anche sul, soprattutto ecco sul cliente finale che è la cosa più importante, più significativa. Un altro tema che dobbiamo affrontare, centrale, è quello della fiducia naturalmente che cambia ecco in un sistema differente come quello che stiamo imparando a conoscere. Fiducia che è facile, no? Da creare in un rapporto face to face, è così che l'abbiamo sempre vissuta, mentre è diverso insomma ricrearla in un ambiente digitale e soprattutto come fare eventualmente se questa fiducia, questo rapporto di fiducia si incrina per un danno reputazionale. È un tema enorme, gigantesco e quindi insomma cerchiamo di dargli il giusto spazio. Io riparto da Luca Colasanti. Assolutamente, la domanda è pertinente perché come giustamente diceva la fiducia è facile da creare in un ambiente o in un'interazione tipo face to face, è più difficile da creare a distanza quindi tramite un'applicazione, un portale. Quanto vale l'esatto contrario per la perdita di fiducia? È facile che un evento faccia perdere fiducia a un determinato servizio digitale. Quindi il tema della fiducia e dell'assicurazione è un tema sicuramente centrale ed altrettanto qui l'ecosistema, le via ecosystem può aiutare. Io riprendo un esempio dato che abbiamo rappresentanti banking e telco e in tema di fiducia una delle discussioni che ho fatto anche con dei nostri clienti banking è stato come faccio a rendere più, come dire, a migliorare la fiducia dell'utente nell'utilizzare i suoi estremamente i pagamenti digitali, carta di credito oppure ritirare dei soldi all'ATM, al Bancomat. Potrebbe venire in aiuto per esempio una telco, dove una telco può dare la posizione di un terminale, il classico smartphone, dell'utente che sta prelevando al Bancomat e quindi l'ufficio rischi, la centrale rischi della banca può verificare che quell'utente effettivamente sta di fronte a quel Bancomat, in quello shopping, in quel preciso momento, quindi abbassa il rischio di una frode. Questo è semplicemente un esempio, è una delle tante discussioni che comunque abbiamo fatto con i nostri clienti e come un ecosistema, quindi interazioni tra diverse aziende, può aiutare dal punto di vista delle fiducia. Ecco, la fiducia, tema fondamentale per quanto riguarda poi le frodi bancarie, insomma il suo settore qui viene sollecitato in particolar modo, dottor Altamura. Sì, assolutamente la fiducia per una banca ovviamente è l'asset principale, perché è quello che convince i clienti di una banca ad essere clienti di una banca, quindi è assolutamente fondamentale per noi. Diciamo, dal punto di vista della banca, l'ecosistema API sicuramente porta numerosi vantaggi, porta anche alcuni punti di attenzione, soprattutto legati alla responsabilità dei diversi attori che agiscono nell'ambito di un ecosistema API e con cui la banca deve interagire per offrire determinati servizi, perché a volte quello che può capitare è che il cliente, che non ha assolutamente percezione, come si diceva, di quello che avviene tra quando utilizza un servizio di una banca e tutto quello che accade dopo, ha potenzialmente la possibilità di ritenere che la banca sia responsabile di determinati servizi quando in realtà questi dipendono da altri. Quindi la difficoltà vera nel gestire un ecosistema API è di andare a offrire dei servizi lato banca che siano il più perfetti possibili, ma dare al tempo stesso assistenza ai clienti, spiegazioni e ascoltare in modo proattivo quello che il cliente ci racconta che non è andato bene per intercettare eventuali situazioni in cui il cliente ha una percezione di qualcosa che non va lato banca, ma in realtà è da ricercare in qualche attore della catena. Quindi andare a ricondurre esattamente il perimetro della responsabilità per salvaguardare quella che è la fiducia che il cliente ha nei servizi della banca. Quindi tanto ascolto, tanta assistenza e tanti interventi soprattutto per far funzionare ciò che non sta funzionando non soltanto l'autobanca ma anche l'autopartner. Chiarissimo. Ecco, tutto questo diventa ancora più importante per una telco, immagino, dottor Favole, sia innanzitutto fornire un servizio che sia, come diceva il dottor Altamura, il più preciso, il perfetto per il cliente finale, l'ascolto nel caso del disservizio. Diciamo che nel mondo delle telco la reputazione è il primo elemento, è il primo valore che ci contraddistingue. È un mercato che deve fare della trasparenza, diciamo, uno dei suoi elementi fondanti. Perché? Perché dobbiamo fare quello che diciamo al cliente, dobbiamo mantenere la promessa rispetto all'aspettativa del cliente. In particolar modo noi che siamo e abbiamo intrapreso un percorso diversi anni fa, oggi siamo la prima telco certificata B Corp, teniamo quindi all'esercizio dei nostri servizi sia in termini di responsabilità rispetto all'ambiente ma anche rispetto al sociale. Quindi forniamo assolutamente una trasparenza e una certezza che i servizi che eroghiamo hanno anche una forte attenzione a tutti i valori dell'SG che sempre di più anche lato cliente sono diciamo percepiti come valori fondanti del servizio stesso. Bene, ecco, sicuramente il trade union, insomma, tra tutte le vostre esperienze all'interno di un API ecosystem rappresentato dalla tecnologia. E a proposito di rivoluzione digitale, qui siamo proprio nel pieno, addirittura ecco, c'è un continuo fermento nel settore. Abbiamo visto ecco negli ultimi giorni, ad esempio, il tema dell'intelligenza artificiale, delle chat, chat GPT che viene nominata. Ecco, abbiamo capito che sono, insomma, tutti strumenti che ci accompagneranno da qui in avanti inevitabilmente. E quindi io torno da Luca Colassanti per chiedere, dal punto di vista tecnologico, se anche per l'API siamo agli inizi, siamo agli albori, ecco, e quali nuove tecnologie dobbiamo aspettarci per un'ulteriore evoluzione? Diciamo che più che tecnologie dobbiamo aspettarci sempre di più una forte integrazione tra industria. L'attuale confine che c'è tra un'industria e l'altra varrà sempre meno, quindi saremmo sempre più, le industrie saranno sempre più integrate, il fine sempre ultimo è quello di fornire un servizio omnicomprensivo a quelli che sono i nostri clienti alla fin fine. Io torno su un tema riguardo il fenomeno del momento che è chat GPT. Al di là del fatto che è usato dai nostri figli per creare i temi e non fare i compiti, al di là di questo, di per sé questo è un servizio rivoluzionario ma fino a se stesso se non viene applicato in un contesto. Ecco perché il concetto di integrazione, il concetto di ecosistema entra prepotentemente. Questo è un servizio che potrà essere utilizzato in tanti altri ambiti, dai bot evoluti ad altri ambiti che in questo momento non possiamo nemmeno immaginare, per offrire un servizio sempre più integrato, migliore al nostro cliente finale. Quindi API ecosystem formato anche di attori che danno servizi specifici molto settoriali ma che lasciano poi ad altre industrie la proposizione finale verso il cliente. Chiarissimo. Ecco, mi permetto una battuta su chat GPT che è l'incubo degli insegnanti sicuramente perché appunto con gli studenti che ormai le famose ricerche non le fanno più loro, basta che digitano sulla chat e il testo viene fuori anche con un buon livello comunque di credibilità ed è l'incubo di noi giornalisti perché insomma stiamo trovando qualcuno che ci sostituisce nella stesura dei testi e quindi dobbiamo cercare di aguzzare un po' l'ingegno. Famoso test di Turing. La tecnologia ovviamente ha questo anche doppio volto, cioè sicuramente aiuta, ci aiuta in tutte le attività, dall'altro c'è la grande questione legata al tema dell'automazione del lavoro, della creatività umana che magari potrebbe essere penalizzata in un futuro, lo vedremo anche qui appunto, siamo agli inizi di una nuova epoca, di una nuova era. A proposito di tecnologia mi rivolgo agli altri due ospiti chiedendo ecco che la rivoluzione digitale ha necessariamente imposto nuove figure professionali, delle nuove anche capacità dal punto di vista proprio lavorativo nell'ambito del digital. Ecco voi a questa nuova domanda come avete fatto fronte? Prego prima al dottor Altamura. Allora per quanto riguarda la mia esperienza personale di product manager dei servizi a piede manca la difficoltà che abbiamo nel gestire questi nuovi servizi è che bisogna essere un po' dei tutologi, perché bisogna capirne di tecnologia, bisogna capirne di cyber security, bisogna conoscere la normativa, come la conosce il legale e la compliance se non meglio perché bisogna spiegare anche come questa viene applicata alla realtà di un servizio tecnologico come un API. E poi bisogna conoscere le esigenze dei clienti, bisogna conoscere l'e-commerce, bisogna conoscere i pagamenti, quindi è veramente complicato gestire queste competenze. Tipicamente quello che si riesce a fare è costituire dei team con delle esperienze diversificate in modo tale che messi insieme si riesce un po' a colmare tutte queste esigenze. E poi lavoriamo molto in contatto con quella che è la nostra rete di vendita perché ci serve per recepire quelle che sono le esigenze dei clienti e trasformarle in prodotti che diciamo siamo sicuri che vadano a soddisfare davvero quelli che sono i bisogni che i nostri clienti hanno. Ecco, qui si apre, anche qui insomma ci ritroviamo in un contesto veramente che si sta ingigantendo, quello del famoso mismatch, ecco tra le competenze e tra le esigenze invece richieste dalle aziende e le competenze che poi effettivamente hanno i lavoratori. Il dottor Altamura diceva bisogna diventare un po' dei tutologi a un certo punto perché bisogna saperne di cyber security, bisogna saperne ovviamente di management, di digitale, lato finanziario, un pacchetto completo. Ecco, la vostra esperienza dottor Favole rispetto a questa tematica qual è? Sempre più complicato essere dei tutologi e sempre più complicato rimanere al passo con le competenze che il mondo digitale inevitabilmente rende necessari. Secondo noi, secondo il nostro punto di vista, il grosso sforzo deve essere fatto rispetto alla partnership che si può mettere in atto sia con gli istituti di ricerca piuttosto che con le università. Noi ad esempio siamo partner di alcuni osservatori del Politecnico di Milano, tale per cui riusciamo a interpolare l'esigenza del mondo del lavoro in termini di competenza e diciamo stringere quello che è il percorso degli istituti scolastici e del percorso di istruzione delle persone affinché i nuovi giovani che si affacciano sul mondo del lavoro abbiano le competenze che al mondo del lavoro interessano. Questo è uno sforzo particolarmente importante e se posso aggiungere una sola cosa a quello che ha detto alla domanda precedente il dottor Colassanti, sempre di più la tecnologia abiliterà nuovi servizi, ma il fatto di far parte di un ecosistema ci consentirà di prendere il meglio dal mercato da ogni singola opportunità e lo sforzo che dovremmo fare è quello di superare le filiere in termini di settori merceologici e quindi mischiare le competenze fra i vari settori per poter fornire al nostro cliente la migliore esperienza sia in termini di usabilità del servizio ma anche con un efficientamento dei costi, una grande attenzione all'efficientamento dei costi. Chiaro, ecco mi è piaciuta tantissimo un'espressione che è uscita fuori durante il dibattito, cioè quello del superamento del confine e qui mi rifaccio a un'espressione famosissima di un sociologo che ormai lo citano tutti, lo cito anch'io che è Bauman che parla appunto di società liquida e diciamo che questo concetto di liquidità, cioè del venir meno del confine si applica bene anche all'industria e all'ecosistema. Voglio chiedere a tutti e tre naturalmente se il fatto di questo venir meno del confine e quindi anche di rinuncia in parte della propria identità per un'identità, per entrare a far parte di un'identità più grande, porta solo dei vantaggi, porta anche qualche rischio, come la percepite? Beh immagino che Luca Colassanti sia a favore dell'abbattimento del confine, però volevo sapere ecco se ci sono anche degli aspetti magari più complicati se non negativi che non abbiamo valutato. Allora assolutamente l'abbattimento del confine è un punto di passaggio, è inutile dire che chiaramente noi siamo a favore, ma semplicemente perché forniamo tecnologia che supera questo confine, il concetto della creazione dell'ecosistema è un concetto di esposizione di API che da sole abbattono il confine nel momento che sono fruibili da terzi. Chiaramente questo porta delle sfide, la sfida è assolutamente una rinuncia di possesso di dominio come giustamente diceva e quello è più che altro un aspetto psicologico, un aspetto organizzativo che tutti noi singolarmente, ma le aziende inteso proprio come aziende, devono poter superare per poter competere, perché quello che dicevamo e abbiamo detto poi durante tutta quanta questa intervista è essenzialmente che i nostri clienti vogliono di più e lo vogliono in maniera diversa. Non possiamo pensare di sviluppare tutto in casa, non possiamo pensare di essere i primi nel ranking di ogni singolo settore tecnologico e non, dobbiamo poter acquisire, come ha detto il dottor De Favole, il meglio della tecnologia nel momento corretto e questo lo possiamo fare grazie all'ecosistema, grazie all'abbattimento di questo confine. Ovviamente faccio intervenire anche gli altri due ospiti sull'abbattimento del confine, poi parleremo nello specifico di Open Banking, ma adesso una considerazione diciamo un pochino più generale da parte del dottor Altamura, questo abbattimento la esalta o la preoccupa? Allora diciamo che l'abbattimento è un, come si diceva prima, è proprio una questione forse più psicologica che altro, quindi di andare a rinunciare un po' a quello che è il presidio totale dei propri clienti, dei propri servizi, della costruzione dei prodotti per andare diciamo a orientarsi sul, a rendersi conto che determinate componenti è meglio affidarli a qualcuno che è specializzato in quell'ambito e quindi diciamo questo ampliamento, ancorché ovviamente spaventi, inizialmente è necessario per creare delle user experience che siano veramente di alto livello, perché diciamo la possibilità di creare tutto internamente è un qualcosa che in questo contesto di elevata innovazione tecnologica diciamo sfugge un po', quindi la creazione di un ecosistema API, ma diciamo in Italia voglio dire siamo, per un attimo siamo stati i precursori dell'open bank perché con il CBI già in realtà da decenni offrivamo dei servizi open alla nostra clientela, diciamo questa creazione di un ecosistema abbiamo capito ormai che porta valore per tutte le parti, per la banca, per i clienti e per tutto quanto l'ecosistema paese. Ecco, invece per quanto riguarda una telco forse come mentalità, come tipo di mentalità rispetto al grande tema dell'abbattimento del confine siete un pochino più allenati o no, o mi sbaglio. Siamo già un po' più abituati sostanzialmente, devo dire che il nostro punto di vista è che la stella polare sia sempre il cliente e il cliente fa la differenza, quando l'azienda fornisce servizi di eccellenza al cliente nei tempi in cui questo li richiede e con una esperienza lato cliente è eccellente, il cliente stesso non si domanda da dove arrivano tutti questi servizi e se l'operatore li sviluppa in proprio o li integra. Quello che a lui interessa è poter schiacciare un telecomando e vedere in tempo reale una partita di calcio o un contenuto piuttosto che riuscire a fare una video call senza avere interruzioni o avere una radiolina insomma non sintonizzata come per le persone un po' più anziane come me succedeva in altri tempi. Quindi la differenza è proprio questa, la capacità di erogare un servizio stabile e assolutamente performante. Un altro aspetto fondamentale a cui dovremmo assolutamente tendere non in termini di industrie ma per garantire al cliente questa esperienza è ovviamente il tema della sicurezza dei dati e tutto ciò che riguarda il tema della privacy. Quando un'azienda è compliant e rispetta tutti i vincoli di privacy e di sicurezza dei dati e fornisce un servizio d'eccellenza a quel punto diciamo raccoglie un grandissimo successo. Ecco sì sicuramente ecco il tema della privacy e della sicurezza dei dati è centrale perché ormai i nostri dati quindi anche insomma tutto quello che riguarda la nostra privacy, la nostra personalità è in mano alle aziende, aziende di cui dobbiamo fidarci al 100% perché detengono delle informazioni sensibili e quindi molto importanti e sicuramente ecco questo ha fatto bene a sottolinearlo è un grande tema. Io invece torno un attimo dal dottore Altambura per stressare ancora un po' il concetto di questo open che caratterizza il titolo della nostra trasmissione e poi appunto l'open banking perché c'è stato questo inizio diciamo abbastanza contrastato lo abbiamo detto in termini proprio di percezione con un atteggiamento da parte degli istituti tradizionali piuttosto difensivo. Volevo sapere adesso invece allo stato dell'arte attuale come siamo messi cioè nel senso se c'è effettivamente una maggiore apertura se questo concetto di apertura è stato interiorizzato completamente oppure siamo ancora nel mezzo di un processo? Beh allora diciamo che il motivo fondamentale per cui c'era un iniziale approccio un po' più cautelativo rispetto all'apertura era da ricercare innanzitutto negli investimenti che sono stati fatti per adeguarsi alle normative che hanno imposto l'apertura dei sistemi bancari anche a soggetti terzi che sono stati molto rilevanti e soprattutto sui player medio piccoli hanno inciso parecchio e quindi ovviamente ci si è focalizzati su un approccio di tipo conformità quindi cercati di conformare quelli che erano gli obblighi di apertura della norma senza spingersi oltre. La norma poi diciamo ha imposto questa apertura con una modalità che non prevede una remunerazione per le banche per questi servizi quindi a maggior ragione la cautela iniziale era anche da ricercare nel fatto che era difficile intravedere un ritorno per gli investimenti effettuati. Una volta però realizzati queste interfacce che consentono di dialogare via API anche con soggetti terzi in realtà ci si è resi conto che questo ecosistema poteva essere sfruttato anche per offrire servizi nuovi a valore aggiunto e quindi diciamo in quei contesti in cui ci si è trovati tra banche per trovare le soluzioni per rispondere alla normativa in quegli stessi contesti sono nate anche le idee di servizi diciamo in ottica ovviamente pre-competitiva che potessero portare un valore aggiunto e diciamo sostanzialmente riportare una remunerazione per questi investimenti fatti per l'apertura. Un esempio è quel servizio dice Kiban che parlavo prima il CBI lo ha sviluppato assieme alle banche e ormai è un servizio che viene offerto praticamente dalla totalità delle banche italiane ma come questi ne stanno nascendo altri e diciamo andando anche oltre rispetto a questo che è il perimetro del CBI delle banche italiane ogni istituto si sta cominciando a attrezzare per sfruttare le potenzialità della normativa ed essere diciamo lei stessa una terza parte che va ad aggregare le informazioni provenienti da altri soggetti e quindi tipicamente offre all'interno dell'internet banking quei servizi che si chiamano aggregatori dove il cliente può vedere in un unico punto i saldi e i movimenti di tutte le banche presso qui ai conti e ancora di più le banche diciamo soprattutto le più grandi si stanno attrezzando per offrire servizi servizi alle aziende basati su API sia quelle normative sia diciamo dei verticali che consentono delle user experience ancora migliori rispetto a quelli standard API definiti dalla PS2 che consentono ad esempio di poter integrare nell'ambito dei sistemi dell'azienda per la gestione della tesoreria delle API che consentono di recuperare il tempo reale saldi e movimenti dei conti che l'azienda ha presso la banca per avere sempre la posizione aggiornata e poter gestire i trasferimenti di liquidità con un bonifico istantaneo real time il tutto in una logica machine to machine senza interazioni umani e diciamo realizzando dei processi 100% automatizzati quindi sì in realtà stiamo cogliendo le opportunità dell'open banking però dal mio punto di vista chiedivi prima a che punto siamo secondo me siamo ancora in una fase in cui stiamo uscendo da una fase un po' prototipale per andare verso un qualcosa che sia un po' più un mercato diciamo realizzato e finito ancora diciamo per quello che possiamo vedere la numerosità dei clienti che utilizzano servizi basati su API è ancora abbastanza limitata ma in fortissima crescita quindi diciamo probabilmente ci vorrà ancora qualche anno però sicuramente la direzione è segnata. ecco e infatti qua si apre la finestra sul futuro perché noi stiamo parlando di presente della situazione attuale ma dobbiamo già rivolgere lo sguardo al domani perché proprio ecco il progresso continuo anche della tecnologia ce lo impone e io chiedo ai miei ospiti rispetto ecco al prossimo futuro quali sono le sfide dell'ecosistema dell'API ecosystem in termini di regolamentazioni in termini anche magari di nuovi e crescenti ecosistemi paneuropei ormai ecco a proposito di confini non sappiamo dove si allargeranno e riparto proprio da Luca Colassanti. Allora diciamo che il futuro degli ecosistemi è un futuro che sicuramente non sarà legato tanto alle regolamentazioni che quelle avverranno la famosa PSD3 insomma che ci aspettiamo da qui nell'arco di qualche anno ma quanto in un unico concetto la percezione del valore valore dei servizi che io azienda decido di esporre e rendere disponibili a terzi che li utilizzeranno quella creazione quella percezione di quel valore sarà quello che trainerà lo sviluppo dei nostri ecosistema. Questo aggiunto a un altro shift mentale si deve passare dal concetto di API che è un concetto prettamente tecnologico e significa interfaccia quindi il check IBAN ok è perfetto a un concetto di prodotto quindi trasformare quello che è la partecipazione a un ecosistema che può essere una partecipazione passiva cioè io prendo dall'ecosistema o attiva cioè io do anche all'ecosistema a un concetto di mercato e quindi di marketplace dove io partecipo all'ecosistema ma letteralmente trasformandolo in una stream di revenue al pari del mio core business. Ecco invece dal punto di vista di una teco sfide per il futuro anche questo grande tema vi è tato scrivere su chat GPT e farsi suggerire la risposta? Andiamo qui da lei dottor Favole. Guardi le rispondo in due modi. Il primo modo è che per far parte di un ecosistema bisogna apportare valore non bisogna solo esserci per la smagna di presenzialismo e quindi se un attore porta del valore a tutta la filiera dell'ecosistema ne trarrà aggiovamento ma avrà anche un contributo fondamentale per la crescita di questo ecosistema stesso. La seconda risposta invece che le do è riguardo all'evoluzione tecnologica che prima abbiamo toccato. L'intelligenza artificiale, chat GPT, il machine learning, tutte le tecnologie che sono abilitanti al futuro e che ci consentano come dire di avere un primo step, un primo gradino per innovare, per ragionare su nuovi servizi hanno senso solo se il pensiero umano e la creatività che resta ancora tutt'oggi diciamo una delle virtù uniche dell'essere, dell'essere umano ragioneranno sull'evoluzione di servizi, sulla modalità per aprire nuovi mercati, nuovi canali di vendita e nuove modalità anche di interazione con i clienti che è l'aspetto fondamentale. Quindi io ritengo che tutte le tecnologie saranno abilitanti ma aumenteranno esclusivamente il benessere di noi individui sia come professionisti ma come esseri unici e quindi l'intelligenza artificiale difficilmente ci sostituirà. Certo ci accompagnerà, affiancherà, aiuterà però difficilmente ci sostituirà sì anche perché insomma replicare la creatività umana è un qualcosa effettivamente che vediamo molto spesso come magari nei film fantascientifici. Ora se verrà tradotto poi effettivamente nella realtà questo è il grande punto di domanda che riguarda il futuro. Ecco e a proposito di futuro abbiamo parlato appunto delle sfide che riguardano gli ecosistemi. Io direi per concludere questa tavola rotonda vorrei farvi fare un esercizio quasi di lingua italiana diciamo così perché mi sono segnata le parole chiave ecco di questa nostra discussione. Ce ne sono tante naturalmente valore, evoluzione tecnologica, digitale, superamento dei confini. Vorrei ecco che ognuno di voi mettesse sul piatto una parola, un termine, un concetto che ritiene particolarmente significativo per dare la chiusa finale a questo nostro panel di discussione. Prego il primo Luca Colasanti. Beh assolutamente è il concetto che noi abbiamo usato nell'apertura e nel nostro titolo la creazione del valore quindi il valore in sé per sé. L'ecosistema, partecipare a un ecosistema attivamente e passivamente crea valore al di fuori poi della, evolvendosi verso uno stato maturo dell'ecosistema, quel valore crescerà sempre di più diventando a tutti gli effetti un attore primario nel business dell'azienda che partecipa all'ecosistema stesso. Quindi insomma si insiste ancora su questo concetto che è fondamentale, lo abbiamo capito, di valore. Per lei dottor Altamura una parola, un concetto, un'espressione che giudica imprescindibile da qui in avanti. Dunque penso che la sfida più grande che abbiamo davanti per quanto riguarda almeno l'ambito bancario è di portare come dicevo prima i servizi che oggi sono prototipali a una maturità. La maturità di questi servizi ancora non è stata raggiunta e raggiungerla richiederà un grande sforzo perché l'interazione tra i sistemi di banche e di altri soggetti è estremamente delicato. Ogni banca sviluppa delle API che ancorché facciano riferimento a uno standard sono comunque differenti l'una dalle altre e quindi necessariamente c'è bisogno di creare tantissima esperienza di tantissime situazioni in cui i soggetti terzi richiamino le API delle banche e queste vengano messe da prova in diverse condizioni, veramente del soggetto che sta chiamando piuttosto che dei sistemi operativi, dei device, degli utenti che li stanno utilizzando. Tutte queste combinazioni di fattori diciamo potranno essere messi alla prova soltanto con l'incremento dei volumi che auspichiamo arriverà nei prossimi anni perché altrimenti diciamo fin tanto che restiamo su questi livelli non riusciremo mai né noi né i soggetti che ci chiamano a portare a regime i servizi e metterli veramente a bolla. Noi diciamo lato nostro vediamo delle performance anche rispetto a chi chiama le nostre API che sono estremamente eterogenee, ci sono delle terze parti che hanno percentuali di trasformazione dalle inizializzazioni bonifici all'esecuzione che sono altissime e altre che non raggiungono il 50%. Quindi diciamo queste differenze potranno essere colmate soltanto con l'esperienza e soltanto quando tutti questi gap saranno risolti i servizi saranno veramente a bolla e potranno decollare e essere utilizzati diciamo in maniera massiva da tutta la clientela. Mi piace tra l'altro il termine che ha scelto, maturità, molto bello, è insomma uno stadio evolutivo da un qualcosa che da un passo diciamo primordiale come diceva prima deve svilupparsi e raggiungere uno stato definitivo comunque con di avanzamento superiore. A lei dottor Favola il compito di mettere il punto esclamativo su questa tavola rotonda. Guardi ci provo perché ne abbiamo utilizzati tanti di vocaboli, non abbiamo più la scelta, va bene che la lingua italiana è ricca e varia, però effettivamente molti termini li abbiamo utilizzati quindi capisco che il compito non sia facile. Va bene, secondo me la sfida fondamentale sarà la personalizzazione estrema. La personalizzazione estrema in termini di modalità di erogazione, di accesso dei servizi per tutti i clienti e soprattutto la forte specializzazione, quindi poter erogare ad ogni singolo cliente quasi in modalità sartoriale rispetto alle proprie esigenze, ai propri utilizzi di consumo, un servizio eccellente fatto anche grazie all'integrazione di vari sistemi e quindi all'accesso a questo ecosistema che oggi passa dall'API ma come giustamente raccontava il dottor Collassanti siamo solo all'inizio, è un primo passo e quindi poter integrare per dare al nostro cliente finale un'esperienza di eccellenza. Se ne è cavata più che bene perché ha tirato fuori due termini personalizzazione e specializzazione insomma quindi in realtà più che bravo. Io veramente ringrazio ancora gli ospiti di questa tavola rotonda, il dottor Luca Collassanti, Director Pre-Sale Iberia Italy and East Europe di Axway, grazie naturalmente per il contributo per essere stato qui con noi oggi. Grazie per l'invito. Il dottor Alessandro Favole, Business Unit, Business and Wholesales Director di Eolo, grazie ancora. Grazie a voi, è stato un piacere. E infine il dottor Marco Altamura, Vice President at Payment Cash Management and Open Banking di Intesa San Paolo. Grazie, grazie a voi davvero. Grazie, io ringrazio ancora i miei ospiti. Siamo giunti alla conclusione di questa tavola rotonda di questa puntata di Open, un passo nel futuro e insomma il sottotitolo si presta benissimo proprio alle riflessioni che abbiamo fatto oggi parlando di ecosistema, di API Ecosystem. Io vi ringrazio per averci seguito, naturalmente continuate a seguirci qui sulle fonti tv. Grazie. 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 Grazie.